In rappresentanza del Presidente federale abbiamo Pino Mozzon, 36 edizioni, è una storia ormai, 36 edizioni sono tante, 36esima in Friuli Venezia Giulia, la seconda volta, un modo per promuovere questo territorio ma per fare sempre una grande festa dello sport giovanile. E' una delle manifestazioni più importanti, più bella, più copiata da altri che ci sia. Questa manifestazione giovanile della Federazione Pallavolo che vede coinvolte tutte le regioni è solo il risultato finale di un percorso che nasce da Trofeo dei Territori, delle ex province, nasce da delle selezioni fatte progressivamente per arrivare ora a questo che è il culmine. Ma stiamo parlando del culmine, del risultato di anni di lavoro, di preparazione per queste cose. Noi ne siamo orgogliosi, i ragazzi se lo ricordano moltissimo, molti di quelli che sono passati da questo Trofeo delle Regioni sono diventati dei veri campioni, molti hanno continuato a giocare a livelli più diversi e questo deve essere il nostro orgoglio e per questo questo Trofeo delle Regioni proseguirà ancora per tanti e tanti anni.